Sindaco, è giusto anche lanciare un messaggio alla cittadinanza, non c'è nessun allarme a Fossacesi? Non ci sono problemi per i frequentatori, così mi dice la ASL, se non per quelli che hanno avuto contatti diretti con queste persone che comunque erano all'interno e non al bar. Detto questo, devo dire, siamo in una località dove la sicurezza ha livelli altissimi, grazie alle forze dell'ordine che sono mattina e sera a controllare perché c'è una movida che è venuta fuori. Ma bisogna anche aggiungere che la decisione è stata presa dal governo di far ballare in tutti i locali italiani e questi problemi si verificano in tutti i locali italiani, basta leggere i giornali o vedere le televisioni. Quindi sicurezza assoluta, abbiamo preso gli steward sulla spiaggia per garantire sulla spiaggia libera la distanza l'uno dall'altro. Non ci sono problemi, bisogna stare però attenti e io ne approfitto e lo faccio anche a nome di tanti sindaci italiani che sono preoccupati, che svolgono i loro doveri fino in fondo, che chiedono sicurezza, che sguinzagliano gli agenti della polizia locale. Ai giovani dico, attenzione, mettetevi la mascherina perché la mascherina significa una cosa sola, garantissi la salute e stare uno distante dall'altro. Tra l'altro l'amministrazione comunale di Forza Cesa e il sindaco, la giunta, sono andati davanti ai locali due settimane fa e hanno consegnato circa 400 mascherine a coloro giovani che non le avevano.